Musica Telespettatrici e telespettatori di Telediogene un saluto affettuosissimo e un benvenuto all'odierna edizione del nostro telegiornale che apriamo con la vicenda dell'acqua, acqua non l'acqua che arriva alle nostre case ma l'acqua per l'irrigazione anche se l'acqua per l'irrigazione come sentirete dalla voce del Presidente del Consorzio di Bonifica di Crotone arriva nelle case di due comuni, quella di Cutre e quella di Isola Caporizzuto. C'è un problema, c'è un problema ed è molto molto serio, quest'anno l'acqua è diminuita perché è piovuta poco e perché in Isola non ha fatto la neve degli anni precedenti, ha fatto scarsissime nevicate e sta mettendo questo fatto a mancanza di acqua, sta mettendo in ginocchio il reparto, il comparto più importante della nostra economia che è l'agricoltura. Ci sono già settori dell'agricoltura che sono fortemente in crisi, c'è insomma una situazione che a dir poco sa di drammatica e che è destinata a diventare ancora più drammatica se la regione non interviene. L'agricoltura è sicuramente il settore più importante dell'economia della provincia di Crotone, quello che potrebbe davvero muovere qualcosa per quanto riguarda l'economia e l'occupazione. Entra in crisi perché quest'anno non piove, qui a Crotone non neve che insila, manca l'acqua, il grido d'allarme del Consorzio di Bonifica è partito in tempi non sospetti, in tempi non sospetti. Adesso c'è qualche altra associazione che si unisce al Consorzio di Bonifica e c'è stato un incontro alla regione perché la situazione del Crotonese è particolarmente grave, manca l'acqua. Sì, stiamo vivendo una particolare siccità e credo che le vere problematiche saranno a partire d'agosto-settembre perché noi comunque una programmazione per arrivare fine agosto-metà-settembre l'abbiamo fatta anche in concerto con la 2A che abbiamo incontrato 3-4 giorni fa qui. La società che gestisce i laghi silane e che quindi fornisce l'acqua. Che fornisce l'acqua e che ci ha assicurato che rispetterà i termini della convenzione per quanto riguarda i volumi di acqua che deve erogare. Anzi, noi abbiamo chiesto un incremento di questi volumi di acqua proprio per cercare di arrivare in maniera tranquilla verso il 5-10 settembre. Il periodo in cui poi dovrebbero riprendere le piogge, speriamo. Speriamo. Ho paura che questi cambiamenti climatici si stanno accelerando terribilmente. Necessiterebbe investimenti da parte... Perché l'acqua potrebbe essere... La Calabria è ricca di acqua, è ricca d'acqua però... Ci vogliono impianti. Ci vogliono impianti, dobbiamo ammodernare gli impianti che ci sono per evitare gli sprechi e per evitare un non utilizzo razionale dell'acqua. Noi dobbiamo necessitare... Sono impianti quelli di cui parliamo di 30-35 anni fa, sono ormai vetusti e necessitano di utilizzare la tecnologia esistente tipo i contatori per una contabilizzazione perché la comunità europea richiede oramai una rendicontazione di come utilizziamo l'acqua. È un bene fondamentale, è un bene in via di istituzione. È la base della vita, è la base dei nostri prodotti. Comunque è emerso un problema, quest'anno la cultura dei finocci come voi sapete non ha avuto molto successo per i nostri agricoltori, per noi stessi perché il mercato c'è stata una crisi, abbiamo chiesto pure la calamità perché abbiamo avuto delle temperature notevoli nel mese di gennaio, febbraio. La produzione non è stata a livello degli altri anni. Quindi gli agricoltori si sono posti in un problema economico di difficoltà notevole e sono andati a seminare immediatamente, subito dopo la francesolatore perché non sono stati proprio raccolti i finocchi, del grano in mese tardivo marzo, addirittura ancora adesso stanno seminando grano che è un po' fuori dalla normalità di una cultura agronomica però nella disperazione, nella necessità comunque di dover fare qualcosa per sopperire i bisogni familiari e così via il grano però non è una cultura irrigua e né il consorzio poteva prevedere un investimento di una necessità in questo momento impellente di acqua quindi nella nostra programmazione avevamo programmato che l'acqua sarebbe stata aperta pur con le turnazioni e con tutto quello che ho detto prima a partire da fine aprile, inizi di maggio fino a settembre però c'è stata questa richiesta e questa esigenza notevole di acqua quindi l'acqua si è ridotta ancora di più? no, l'apriremo per 5 giorni e allora ho dovuto porre nuovamente l'allarme perché se apriamo subito l'acqua allora i problemi si acquireanno ancora maggiormente immagino per la popolazione di Isola perché noi forniamo acqua grezza anche al comune di Isola e al comune di Cutro e quindi ho dovuto per forza non poter prendere più la responsabilità da solo quindi avete fatto un incontro con la Regione? abbiamo fatto un incontro con la Regione dove abbiamo esposto tutti i dati le segnalazioni che abbiamo già fatto e quindi il monitoraggio che stiamo facendo rispetto al dato storico degli anni precedenti siamo rimasti d'accordo con la Regione comunque di aprire per 5 giorni l'acqua per giusto una irrigazione di soccorso in questo momento per questo tipo di cultura dopodiché sarà chiusa e invaseremo il lago di Sant'Anna porteremo a 14-15 milioni e comincerà poi l'attività di irrigazione però siamo rimasti anche che ogni 15 giorni il Consorzio farà dei report dei monitoraggi continui da inviare alla Regione e ai Comuni per capire cosa andiamo incontro nel mese di luglio e di agosto per capire se i consumi aumentano o non aumentano ed eventualmente la Regione ha preso impegno convocherà 2A per capire come far fronte a questa situazione in questa situazione di eccezionalità se A2A è nelle condizioni perché anche i laghi silani A2A ci ha fatto vedere che ci sono 20 milioni di metri cubi in meno rispetto all'andamento normale se è nelle condizioni comunque di assicurare l'approvvigionamento almeno per la popolazione per i bisogni essenziali bisogni primari La politica non ha ancora concluso l'iter per la scelta dei candidati a sindaco l'hanno fatto alcuni movimenti, alcuni partiti all'appello manca ancora il candidato dei moderati chiamiamolo così perché l'ex centrodestra Forza Italia e altri non si presenteranno con simboli di partito ma intendono candidarsi con liste civiche e si chiederanno il voto ai cittadini crotonese con il nome di moderati che è il candidato torna di nuovo in ballo il nome di Cesare Spanò dell'imprenditore di Cesare Spanò che era stato avvicinato in un primo momento e che aveva rifiutato questa proposta ma nelle ultime ore il nome di Spanò torna di nuovo a circolare insieme a quello di Argentieri Piuma Antonio Argentieri Piuma dietro questi due nomi quello di Argentieri Piuma e quello di Cesare Spanò c'è un'organizzazione di imprenditori ci sono un gruppo di imprenditori che non vogliono stare alla finestra che non si sentono né di centrosinistra e quindi né del PD né si sentono collegati ai movimenti la prossima crotone e altri e quindi vogliono candidare un proprio rappresentante perché evidentemente i nomi proposti da quelli che hanno fatto finora candidature non sono condivisi da questi gruppi di imprenditori che invece pensano ad altri nomi per cui o Spanò oppure Argentieri Piuma alla fine saranno i candidati dei moderati saranno presenti insomma e rappresenterà quest'area importante dell'impresa che non vuole stare alla finestra a guardare intanto ieri la prossima crotone ha presentato le liste ovvero non ha presentato i nomi non ha presentato le sigle che ancora non ci sono si sono viste a dentali hanno detto che cinque liste sono certe che c'è un allestimento per la sesta lista ma ancora i nomi non sono stati non sono stati resi nomi non sono stati resi noti le persone che erano presenti i colleghi giornalisti io non c'ero mi riferiscono che non c'era l'entusiasmo della presentazione che c'era stato per questo movimento quando è avvenuta la presentazione della squadra il famoso bouquet che era stato messo a disposizione della città che poi si era ridotto perché c'erano stati passi indietro quindi non c'era l'entusiasmo e che la presenza non nell'altro nel salone di Dentalia non era confacente al numero dei candidati che la prossima Crotone dice di avere Salvatore Piccari cittadino di Crotone col pallino della poesia dialettale della poesia dialettale e allora ne ha fatto ne ha scritto una sulle elezioni allora posso i votazioni da questa settimana mi pare una forma caro questo paese a noi tanto caro e mi domande perché questo movimento è possibile che torni a salire ci sono votazioni comunali e più da un giorno ci resta male ci sono i candidati di tutte le liste come on da ghiaccio sono tutti ben in vista e quando si va a sassettare cacciavano i cani cacciavano per trovare sono tutte belle e tutte ingravattate che sul dottore è pure avvocato hanno l'ingiutti i muri manifesti e fanno la gara per vedere così il cuore però per me sono tutti in maniera che c'è nessuno che ha matto per la banniera se ora sta rispondendo tutti questi denari con l'interesse poi se la ne piare rendere pulita la città è il nostro lavoro ma per tenerla pulita serve anche il tuo aiuto Clotone di tutti collaboriamo a renderla più vivibile una città più pulita è una città più accogliente aiutaci anche tu a rendere Crotone più bella Acrea da sempre al servizio dei cittadini studio ben in casa agenzia immobiliare vendita appartamenti e villette affitti stagionali anche settimanali progettazione accertamenti catastali ipotecari e di proprietà dia e scia certificazione energetica designer interni e allestimenti vetrine inoltre studio ben in casa immobiliare mette a disposizione la propria esperienza alla progettazione di eventi studio ben in casa agenzia immobiliare in Viale Aldomoro numero 116 a Rocca di Neto visita la nostra pagina facebook studio ben in casa agenzia immobiliare è stato eletto il nuovo direttivo dell'associazione giovani avvocati sezione di crotone che si è pure insediato il 6 aprile scorso si legge in una nota si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio direttivo della sezione AIGA che sono appunto l'associazione giovani avvocati di crotone per l'anno sociale 2016 2017 il consiglio risulta composto dall'avvocato Caterina Trocino che è presidente dall'avvocato Angelo Brenna vicepresidente dall'avvocato Rosmira Colicchio segretario dall'avvocato Valentina Sicilia tesoriere dal dottor Alberto Laratta addetto stampa telematico a far parte del nuovo direttivo vi sono anche cinque consiglieri ai quali sono state attribuite delle che specifiche l'avvocato Natalina Giungato diritto tributario e societario l'avvocato Manuela Rizzo esecuzioni immobiliare l'avvocato Tommaso Vallone diritto del lavoro e previdenza l'avvocato Irene Trocino diritto penale l'avvocato Maria Caterina Perrotta diritto di famiglia l'avvocato Federico Ferraro addetto ai rapporti con i magistrati il neopresidente nel ringraziare il presidente uscente l'avvocato Natalina Giungato per l'impegno profuso durante il suo mandato e di colleghi per la fiducia accordatole ha augurato ai soci di svolgere un proficuo lavoro foriero di nuovi progetti all'insegna della collaborazione come avete sentito dai nomi l'associazione dell'italiano dei giovani avvocati parla al femminile la maggior parte sono tutte donne Donna Coraggio Donna Coraggio è l'iniziativa messa in piedi tre anni fa dal sindaco di Petiglia Policastro per celebrare il sacrificio il coraggio di Lea Garofalo e tutti gli anni si cambia il soggetto quest'anno il premio istituito dall'amministrazione comunale tre anni fa quindi terza edizione andrà al sindaco di Lampedusa che è una donna si il sindaco di Lampedusa la Nicolini una donna una donna coraggiosa una donna che ci mette la faccia e il cuore tutti i giorni tutti i giorni accogliendo migliaia di profughi e facendo dei grandi sacrifici perché io Lampedusa non è una città grande che ha grandi risorse è una piccola comunità e lei insieme ai suoi concittadini fanno grandi grandi sacrifici con coraggio con coraggio dovremmo essere tutti grati tutti grati io ho deciso di esprimere la mia gratitudine assegnandogli il premio la terza edizione del premio Lea Garofalo chi ci sarà il 7 maggio il 7 maggio ci saranno il ministro Ferri il viceministro Ferri c'è il viceministro Dolina Bianchi c'è il presidente della regione Oliverio il presidente del consiglio Isto tutti i sindaci del territorio ma ci saranno onorevoli autorità civile e militare sui eccellenzi prefetti ci sarà un bel parterre un bel parterre soprattutto si celebrerà ancora una volta una donna che ha il coraggio di fare le cose di fare le cose le donne le donne non dimenticare Gretano che Lea Garofalo è stata ricordata il giorno dell'inaugurazione della cittadella regionale come simbolo della Calabria e allora io ho visto bene tre anni fa quando decisi di intraprendere questa strada perché devi sapere che Lea Garofalo non era stata mai ricordata a Petiglia finché non mi sono insediato io non c'era niente era una sconosciuta era una sconosciuta era conosciuta ma non volevano riconoscerla e io invece che la mia amministrazione ci tenga a riparirla ho cambiato passo non ultimo sai che ho dato quest'altro premio ai carabinieri di Petiglia Policastro alla compagnia dei carabinieri proprio per dire da che parte sta l'amministrazione di Petiglia e il sindaco di Petiglia sta da parte della legge sta da parte della legge e tre giorni fa c'era una una casa un bel appartamento di quasi 200 metri che l'antimafia aveva messo a disposizione del comune da oltre 15 anni e il comune non l'aveva mai preso era uno dei beni confiscati alla mafia sì perché è di un mafioso e adesso? adesso Nicolazzi l'ha acquisito al patrimonio comunale e la userà per dei cittadini che hanno bisogno temporaneamente che sono in stato di disagio ne ricaverò due appartamenti perché è grande e spero di utilizzarla dandole incomodato temporaneo al gente che ha bisogno al gente che ha bisogno ritorna insomma alla comunità ritorna alla comunità quello che è stato preso mi sconvolge il fatto che qualche collega giornalista possa scrivere che a Crotone hanno tolto l'elisoccorso perché non è così è perché questa notizia data in questi termini che cosa produce? produce davvero un effetto strano potrebbe convincere chi dovrà decidere il taglio dell'elisoccorso a tagliare quello di Crotone perché tanto lo diamo per scontato che noi a Crotone l'elisoccorso sarà tagliato in effetti non è così perché il DM il decreto del commissario il DCPM del commissario per il piano di rientro Massimo Scura prevede il taglio di uno dei quattro elisoccorso della Calabria e perché deve essere quello di Crotone fa specie ancora di più il fatto che di fronte a questa notizia che non risponde a verità c'è anche la politica che incomincia ad agitarsi e allora è giusto vigilare però non è giusto dare l'idea che a Crotone siamo pronti ad avere tagliato il nostro elisoccorso sarebbe sicuramente una cosa terribile ma non è giusto così vigilare vigilare ma non dare per certo che sarà Crotone si è svolto questa mattina presso l'istituto superiore lucifero la ragioneria di Crotone alla presenza del prefetto De Vivo un convegno su il tempo dell'adolescenza tra clinica e assistenza l'iniziativa cui ha partecipato anche la cabaternaria di Porto di Crotone ha registrato la partecipazione massiccia degli studenti ai quali il prefetto ha porto il saluto stimolando il dibattito sulla tematica in esame e di particolare delicatezza perché il tema appunto del tempo dell'adolescenza tra cliniche e assistenze è un tema molto delicato progetto di legge di iniziativa popolare sulla carta di diritto universale del lavoro questa mattina la CGL raccoglie le firme sul lungomare cittadino ma la CGL di Crotone come tutte le CGL d'Italia stamattina avviano la raccolta di firme per quanto riguarda la proposta di legge popolare e quindi vogliamo con questo gazebo stamattina iniziare a spiegare ai cittadini crotonesi dell'intera provincia quali sono le motivazioni e soprattutto quali sono gli obiettivi che questa legge vuole ottenere una nota su tutti io sto tornando proprio in questo momento da Fragalà abbiamo deposto una corona di fiori come gesto simbolico ai morti di Melissa Fragalà è il luogo dove sono state ammazzate nel 1949 tre persone che lottavano per avere la terra che lottavano per avere la terra riscatto dignità e lavoro e quindi noi oggi pensiamo che siccome la fase è difficile e drammatica bisogna ricominciare proprio guardando a quel tipo di esperienza sicuramente negativa che noi assolutamente non vogliamo ripetere ma la fase economica e sociale di questo paese ci impone di ricordarli detto questo credo che da oggi iniziamo questa bella esperienza devo dire che già abbiamo ottimi risconti perché abbiamo superato nel giro di un'ora e mezza oltre le 100 firme questo ci fa ben sperare quindi avanti così per un nuovo statuto dei lavori in difesa dei soggetti più deboli di questo nostro paese perché le scelte che hanno messo in campo in questi ultimi anni il centrodestra il centrosinistra mi riferisco al governo nazionale sicuramente non hanno tutelate le persone più deboli i lavoratori e i pensionati di questo paese arrestati cinque scafisti che hanno come dire che sono stati responsabili dell'ultima dell'ultimo sbarco a Crotone oltre 300 migranti avvenuto lo scorso 7 aprile a seguito di articolate indagini condotte dalla Polizia di Stato dalla Guardia di Finanza e dalla Capitania di Porto sono stati fermati quindi arrestati Ali Ibra Mahomet del 1983 Hassan Said del 1991 Mahomet Ahmed nel 1988 Mustafa Mahomet del 1987 Saiban Ali del 1986 quindi questa indagine ha portato a individuare queste scafistiche che sono poi come dire l'ultima parte di un'organizzazione che a livello mondiale fa speculazioni su questa povera gente facendo questi viaggi molti dei quali si finiscono in maniera tragica che costano un occhio della testa costano sacrificio della vita per queste persone che vedono nell'Europa la loro salvezza il loro futuro alcuni hanno diritto ad essere accolti in Europa altri no e quindi saranno rinviati di nuovo dalla terra di partenza per intanto le indagini delle forze dell'ordine della Capitania di Porto portano appunto a fermare quelli che rappresentano la lunga mano dell'organizzazione cresce in città l'attesa per l'ascesa alla Serie A del Crotone Calcio siamo alle battute finali manca poco facciamo i dovuti scongiuri manca poco perché la città possa celebrare questo questo grande avvenimento la squadra di calcio locale va nella massima serie giocherà con le squadre più importanti che ci sono in Italia e probabilmente se avrà fortuna giocherà anche con squadre di livello europeo l'ufficio del gabinetto del sindaco l'assessore allo sport ha diffuso un comunicato sui balconi e passione rosso-blu anche se sarà la matematica a San Ciro la definitiva consocazione di una meravigliosa stagione calcistica in città la passione rosso-blu che è la maglia della nostra squadra già proietta i crotonesi in un clima di festa collettiva sono molti i cittadini che hanno raccolto l'invito dell'amministrazione comunale di colorare i loro balconi con bandiere rosso-blu per accompagnare la volata finale della squadra dei fratelli Vrenna verso il traguardo della Serie A mentre gli uomini di mister Iuric e l'allenatore sono ormai in vista dello striscione dell'ultimo chilometro la pagina facebook del comune si arricchisce di foto che documentano la passione rosso-blu passione che ha coinvolto non solo le case dei crotonesi ma anche i negozi bar, ristoranti pizzerie e poi associazioni sportive come il club velico che è stato tra i primi a disporre il vessillo rosso-blu anche sui balconi della sede del confcommercio nella centralissima via Roma sono esposte bandiere con i colori della squadra del cuore ma al di là dei balconi io credo che il colore rosso-blu sia nel cuore proprio ben piantato nel cuore di tutti quelli che sono che vivono e sono nati a Crotone e che vivono anche altrove anche che vive fuori dalla nostra città ha legami con la nostra città nel suo cuore ha una bandiera in questo momento rosso-blu grazie a tutti